Upas, ipotesi sulle nuove puntate, Alberto costringe Clara a interrompere la gravidanza. Clara teme di essere incinta perché ha un ritardo di due mesi e nelle puntate di un posto al sole che andranno in onda dall'11 al 15 marzo troverà il coraggio di confidarsi solo con Giulia. Per Clara la paura di fare un test di gravidanza c'è, per le conseguenze che deriverebbero qualora aspettasse davvero un bambino da sabbiese. Visto il suo stato d'animo Clara si recherà in carcere da Eduardo. Ma lui la sorprenderà con una decisione davvero inaspettata. Ci si chiede invece come reagirà Alberto Paiadini se fosse in arrivo un bambino non suo. Clara ha paura di essere incinta nei nuovi episodi di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 la prossima settimana. A catalizzare l'attenzione non sarà solo il tanto atteso matrimonio tra Rossella e Riccardo, sempre che si celebri. Una delle grandi protagoniste sarà anche Clara, alle prese con emozioni contrastanti dopo essersi resa conto di avere un ritardo di due mesi. La prima persona con la quale si confiderà sarà Giulia al centro d'ascolto, che la spronerà a sottoporsi al test di gravidanza. Una volta scoperta la verità, Clara andrà in carcere da Eduardo per comunicargli cosa sta succedendo, ma la sua reazione la turberà parecchio. Alberto tiene in pugno Clara nel puntate precedenti di Un posto al sole Alberto ha convinto Clara a tornare con lui insieme al piccolo Federico, visto che Eduardo si trova in carcere. Una situazione che ha destabilizzato non poco Clara, già provata dal dolore per la distanza dall'uomo che ama ma che per lei è stato disposto a costituirsi. Così da essere finalmente libero di vivere la loro storia d'amore quando avrà pagato per i suoi errori. La probabilità che Clara sia incinta è molto alta, altrimenti non si spiegherebbe l'anticipazione che vede lei andare in carcere da Eduardo per comunicargli qualcosa di molto importante e che cambierà per sempre le loro vite. Eduardo e il dubbio sul futuro con Clara dall'altra parte c'è Alberto, convinto di far tornare Clara con lui manipolandola psicologicamente come ha sempre fatto, tra promesse mai mantenute e messaggi paradossali. Se Palladini scoprisse che Clara aspetta un bambino da Eduardo, chissà quale potrà essere la sua reazione. Non si esclude affatto che la costringa a interrompere la gravidanza, ricattandola come suo solito. Probabile che la minacci dicendole che se terrà il bambino le toglierà per sempre il piccolo Federico. Già con questa strategia è riuscito a tenerla tra le sue mani, dunque sarebbe una strada semplice per lui da percorrere. C'è però un ma, qual è la decisione di Eduardo che Clara non si aspetta? E se fosse lui a chiederle di non tenere il bambino? Sembra molto improbabile, visto l'amore che nutre per lei da sempre.